che sono in media i leghisti e sono 60.000. Questo significa che per vincere ci vogliono 30.000 voti più uno. Dunque non sto capendo molto veramente, anzi non sto capendo niente di quello che dice. Sono all'istituto di sondaggi, un'ora fa ero in ospedale e Pietro stava facendo la sua poppata, ora Pietro sta dormendo. È un risveglio, gli italiani si risvegliano, è una bella giornata di sole, sono ottimisti e allora questo non influenza il 95% dei votanti, ma influenza il 5% marginale dei votanti che si spostano da destra a sinistra o da sinistra a destra, cambiano intenzioni di voto all'ultimo momento e votano in maniera diversa da come si erano addormentati, perché c'è il sole. C'è il sole il giorno delle votazioni, ma si sposteranno appunto da destra a sinistra o da sinistra a destra?